Sono Tullia Penna, lavoro all'ipartimento di giurisprudenza, in particolare sui diritti riproduttivi e il 27 settembre sarò al cortile del rettorato insieme ad altri ricercatori per la notte dei ricercatori. Quella sera parlerò del tema dell'infertilità e del tabù sociale che lo circonda, che circonda sia l'infertilità maschile che quella femminile e delle problematiche giuridiche che chiaramente si sollevano non solo nel nostro paese, ma anche in altri paesi e quindi del motivo per cui molte coppie o molte persone single sono costrette a viaggiare da un paese all'altro per cercare delle cure che qui o da altre parti sono vietate. Se siete interessati a scoprire queste ed altre ricerche saremo il 27 settembre sera, dalle 18 alle 24, al cortile del rettorato per la notte dei ricercatori 2019.